POMPEI Quando si parla di Pompei, il confine tra verità e leggenda è sfocato. La sua è una storia di sesso, potere, trasgressione e tragedia. La città di Pompei ha dovuto morire per raggiungere l'immortalità. Quando si entra in Pompei, si incontra qualcosa di unico. Questo forse perché è un posto speciale. Spicca come una regina tra tutti i siti antichi del mondo. Pompei è una storia di seduzione. E violenza. Lussuria, crudeltà e inganno. Facevano associazioni molto esplicite tra gladiatori e potenza sessuale. La mitologia torna a concetti primordiali. È il trionfo della liberazione dalle disgrazie umane. È uno dei luoghi più famosi dell'antichità. Una civiltà ammossa dal genio. Avvolta da dissolutezza, trasgressione, erotismo e peccato. E hopefully più assedi le crei un sacco di citi. No. Come tutto. Ciao. 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 Ciao.